Tutto dovrebbe decidersi il 14 giugno. Quel giorno un giudice tedesco dovrà farsi carico del futuro di un bambino che non ha ancora tre anni e di una mamma la sua che di anni ne ha appena 25. Maria Pia è una giovane molisana di San Giuliano di Puglia che ora vive in Germania. Picchiata dal papà del bambino le è stato tolto l'affidamento del piccolo. È stata condannata anche al pagamento delle spese legali del giudizio. Ora lo stato tedesco potrebbe dare in adozione suo figlio e lei ha paura di non vederlo crescere. Ma come è possibile? Cosa ha fatto questa madre di tanto grave da rischiare di perdere un figlio? Sono dovuta andare via di casa perché avevo paura di morire dopo quasi due anni e dopo che comunque il mio figlio era nato e aveva sette mesi. Ma raccontiamo la storia dall'inizio partendo da San Giuliano di Puglia il paese dove Maria Pia è nata nel 1993. È solo una bambina quando la scuola che frequenta crolla per il terremoto e il 31 ottobre del 2002 sotto quelle macerie con altri 27 bambini morti insieme ad una delle maestre poteva esserci anche lei. Ma il destino ha voluto che Maria Pia quel giorno che ha segnato la storia del Molise non fosse in classe. La bambina cresce con la famiglia in una delle casette di legno costruite dopo il terremoto di fronte a San Giuliano. Poi Maria Pia diventa grande e conosce Paolo un giovane di origine italiana che vive in Germania. Ha solo 21 anni. Sinemore decide di partire per la Germania, per Duisburg, per inseguire un sogno. Un sogno che si è infranto miseramente trasformandosi in un incubo. A poco a poco la donna scopre che Paolo era scibile e violento. Rimane incinta e pensa che la nascita del figlio possa restituire alla famiglia serenità. Ma non è così. Soplusi continui, psicologici prima, fisici poi, caratterizzano negativamente il menace giornaliero. Lei resiste ma le violenze continuano ed ogni volta insieme alle botte il compagno della donna distrugge anche il telefono. Maria Pia non può nemmeno avvertire i familiari. Non ce la fa più. È il mese di novembre del 2016, l'ultima violenza. Dopo tanti episodi di violenza è arrivato proprio il culmine della violenza. Appunto lui mi ha rotto il naso con una testata. Io mi ritrovai da sola a casa con un bambino senza chiavi, senza documenti, senza cellulare, senza soldi. Il giorno dopo però io sentivo di forti dolori al naso, avevo l'occhio nero. La mattina mi sono svegliata, mi sono vestita, era molto oppresso e sono scappata dal dottore. In ospedale Maria Pia dice che è stata violenza domestica. La polizia viene informata ma il compagno ribalta le accuse e rivela l'intenzione della ragazza di voler fuggire in Italia con il figlio e a questo punto inizia un incubo peggiore. Entra in scena lo Jugendamt, l'agenzia federale tedesca per l'infanzia che si occupa di tutelare diritti e benessere dei minori nati in Germania. Maria Pia viene accompagnata in una casa protetta per donne maltrattate. Suo figlio rimane a casa con il padre per il suo bene, per non traumatizzarlo, dicono dallo Jugendamt. Un giudice le domanda se davvero vuole tornare in Italia con il figlio. Lei con l'amore di una madre che pensa di poter ricevere aiuto e assistenza dai familiari a San Giuliano risponde di sì e alla pronuncia di quel sì le viene tolto ogni diritto sul bambino che viene affidato al padre. Lei può vederlo solo qualche ora a settimana, poi per una nuova decisione delle autorità tedesche per poco più di un paio di giorni. Ora la situazione è bloccata. Se Maria Pia porta fuori dalla Germania il piccolo rischia una pesante condanna penale perché in quel paese ogni bambino viene considerato patrimonio della comunità e dello Stato e in caso di separazione di una coppia mista lo Jugendamt ha le idee chiare. I figli restano in Germania con il padre o la madre di quel paese. L'altro genitore si deve accontentare di una frequentazione limitata. Maria Pia però non si arrende, trova una casa, impara il tedesco e dimostra di essere una buona madre nonostante non abbia fatto nulla più che subire pesanti violenze e di non voler lasciare la Germania. Adesso si ritrova da sola a combattere contro la Germania perché mia figlia sta combattendo da sola contro la Germania. È stata rinchiusa per un anno e mezzo in una casa protetta ma l'hanno sempre deviata, gli hanno sempre dato notizie in ritardo, sminuzzate perché loro stanno cercando di farla mollare, di farla abbandonare il figlio. Invece mia figlia mettetevelo in testa cara Germania, mia figlia non abbandona il figlio, vi ritroverete una combattente che vi attaccherà continuamente. Tra meno di un mese eccetto l'invio una nuova udenza del processo per l'affidamento del piccolo che si basa su una nuova perizia. Da questa perizia viene fuori che entrambi non siamo dei bravi genitori perché non comunichiamo tra di noi e soprattutto dicono che non abbia sviluppato appieno le capacità che dovrebbe sviluppare un bambino di due anni. Il figlio di Maria Pia è un bambino bellissimo che non ha ancora tre anni per una profonda ingiustizia e le rigide regole dello Jugendamt potrebbe essere dato in adozione o affidato ad una struttura, nonostante l'amore che una mamma molisana di 25 anni gli sta donando dal suo primo respiro.